Sono un bravo, onestissimo ubriacone e solo perché ho spaccato la testa dalle persone mi hanno accusato di aver iniziato i tafferugli, è meglio chiamarsi e cacargugli. Sono un venditore specializzato in prodotti stupefacenti, usano pure gli agenti e mi hanno arrestato perché uno è morto a causa dei miei intrugli, è meglio chiamare a zecca garbugli! Salve, sono l'avvocato a zecca garbugli, sapevate di avere dei diritti? La legge dice che ce li avete e lo dico anch'io, credo che fino a prova contraria ogni bravo, donna dai non troppo difficili costumi e teppistello di questo ducato debba essere considerato innocente ed è per questo che io lavoro per voi! Grazie a tutti!